Fissati i funerali, l'ultimo saluto alla diciottenne Agnese Moscatelli domani alle 15.30, il funerale si terrà nella chiesa di Santo Stefano del Ponte a Sesti Levante. Furto aggravato, denunciato un rumeno quarantenne dopo essere stato sorpreso su un treno con a bordo una motosega, rubato una ditta genovese e stato fermato a Recco, cane avvelenato a Lavagna, all'ennesimo caso su Lunga Intella, esposto delle opposizioni, a Sesti Levante tutti i consiglieri comunali di opposizione attaccano il sindaco, continuano le polemiche, ieri sera consiglio comunale, oggi conferenza dei servizi a Genova, procede il progetto di intervento portuale a Santa Margherita Ligure tra mille dubbi, già si parla di funghi, saranno i sindaci a decidere l'apertura e chiusura delle raccolte dei miceti, previste per giugno le prime nascite. Buonasera e dunque apriamo ancora una volta purtroppo con questa notizia sempre relativa al grave mortale incidente avvenuto in via Fieschi. Due sono sostanzialmente le considerazioni, la prima l'avevamo già annunciato noi ieri sera come Intella TV, praticamente sono confermati i funerali di Agnese Moscatelli, la diciottenne che è deceduta, che si trovava sui sedili posteriori della Fiat Idea durante questo drammatico, tragico scontro contro un camion in sosta e contro delle auto. Quindi domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santo Stefano del Ponte ci sarà Don Pino, ci sarà Don Matteo Benetti che è lo zio di questa sfortunata ragazza ed è previsto che ci siano tantissimi giovani, infatti l'orario dei funerali è proprio stato fatto nel pomeriggio per dare modo alle compagnie e compagni di scuola di Agnese di poter presenziare a questo, la fine prematura di questa vita. Per quanto riguarda invece le indagini, il Matteo Campanella che era ricoverato al San Martino di Genova, in questo momento si trova a casa sua a Carasco, le ferite si sono rimarginate, adesso spetterà al magistrato Stefano Puppo procedere sentendo questo giovane di 22 anni che appunto per capire intanto chi guidava l'auto perché in questi casi poi passato naturalmente lo shock iniziale poi ci sono anche delle forti responsabilità anche perché il magistrato ha già a sue mani anche i reperti per quanto i risultati delle indagini sia per quanto riguarda l'alcol che per quanto riguarda eventualmente l'utilizzo di droghe, quindi ora è tutto nelle mani del magistrato che dovrà appunto vedere e capire come è avvenuta l'esatta dinamica tenendo presente che al momento il fascicolo prevede un omicidio colposo contro i gnoti, questo è il reato naturalmente, poi bisognerà capire appunto chi guidava l'auto al momento dello sconto. Ora cambiamo argomento, rimaniamo comunque nella cronaca nera, ne succede di tutti i tipi e tutti i giorni, pensate su un treno è stato trovato anche un ladro che aveva con sé una motosega, ora è evidente voglio dire che su un treno una motosega non è una cosa da tutti i giorni, vediamo. I carabinieri della stazione di Recco a conclusione di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un romeno di 41 anni incensurato. Verso mezzogiorno dopo essersi impossessato di una motosega di proprietà di una ditta incaricata per lavori di manutenzione custodita all'interno dei locali della stazione ferroviaria di Genova Sturla si è allontanato a bordo del treno regionale Genova-La Spezia. A seguito dell'allarme lanciato da alcuni operai e agenti della Polfer, i militari lo hanno rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria della località del Golfo Paradiso. Invece il personale dei carabinieri di Moneglia al termine di accertamenti ha denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica un ragazzo di 24 anni con precedenti di polizia. La notte scorsa di fatti è stato sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti, patente ritirata e mezzo sequestrato. Parliamo invece di un fenomeno che comunque insiste nella nostra zona che è quello dell'avvelenamento dei cani, si era parlato per la Sesti Levante, Riva Trigoso che alcune persone avevano segnalato delle piccole spugne fritte quindi attirano con l'odore, col sapore e poi i cani muore. In questo caso è avvenuto a Lavagna e allora vediamo questo servizio anche perché ci sono eventualmente delle responsabilità gravi per coloro che compiono questi gesti. Vediamo. Se avete un cane fate molta attenzione a girare per le vie di Lavagna perché qualcuno non ama i vostri amici a quattro zampe. Attenzione in corso a Buenos Aires in particolare nella zona compresa tra il semaforo di via Cesare Battisti fino all'inizio del ponte e uno dei post comparsi sullo gruppo Facebook i mogogni del comune di Lavagna. Ieri infatti un cane ha ingerito un boccone avvelenato su Lunguentella nella zona del parchetto dove in molti liberano i cani dopo le ponte dell'autostrada quasi all'altezza di San Salvatore di Cogorno. Per fortuna l'amica quattro zampe che per alcune ore è rimasta in prognosi riservata è fuori pericolo. Ciò che viene segnalato è che anche in passato sempre in quella zona era stato omesso del veleno. Già lo scorso settembre c'erano state diverse segnalazioni di polpette che contenevano antigelo usato per i motori delle automobili, sostanza che risulta dolce al palato dei cani. Il fatto era caduto in corso a Buenos Aires ai piedi degli alberi che caratterizzano la strada che collega Lavagna a Chiavari. Fortunatamente nessun cane era morto nel caso di Corso Buenos Aires. L'animale, vittima di un'esca, muore di una morte atroce. Molti dei veleni usati per preparare le esche agiscono lasciando il cane completamente lucido tra gli spasmi della sofferenza fino al sopraggiungere della morte. Se si rinviene un boccone sospetto occorre non annusare mai le esca, poiché potrebbe contenere sostanze volatile altamente tossiche, avvertire gli organi di polizia, prelevare con cautela le esca facendo attenzione a non toccarla con le mani, usare quindi guanti in lattice o sacchetti in plastica e chiuderla in un contenitore a tenuta stagna per consegnarla poi al servizio veterinario Asler del Comune o agli organi di polizia a corsi. Accertarsi che nella zona non vi siano altri bocconi avvelenati. Se si è testimoni di un caso di avvelenamento di un animale è importante esporre denuncia anche se contro i gnoti. La denuncia deve contenere le prove dell'avvelenamento allegando tutti i documenti veterinari e può essere consegnata a qualsiasi organo di polizia. Il modello per la denuncia può essere scaricato direttamente dal sito del Ministero della Salute. Secondo una nuova normativa infatti i veterinari in caso di sospetto avvelenamento hanno l'obbligo di inoltrare una comunicazione a Sindaco e ASL e in caso di cesso dell'animale devono inviare il corpo e ogni altro campione utile all'Istituto Zoo Profilattico che ha l'obbligo di provvedere all'autopsia e alle analisi. Proprio parlando di cani dobbiamo dare la notizia. Ieri sera abbiamo parlato di questo delinquente 56enne di Cogorno che ha lanciato dalla finestra oggetti ma soprattutto ha lanciato il suo cane, un povero boxer, questo cane è rimasto paralizzato e quindi si è deciso di sopprimerlo. Naturalmente l'uomo è stato denunciato per maltrattamento agli animali e probabilmente sarà contento oggi il cane che non deve vivere con questa persona. Bene, procediamo ora con Sesti Levante. Altro argomento, i gruppi di minoranza hanno firmato un esposto che è stato inviato alla Corte dei Conti, alla Procura e quant'altro sulla gestione del complesso dell'annunziata. Vediamo il servizio. Questa mattina c'è stata a Sesti Levante una conferenza stampa di tutti i gruppi di opposizione. Le motivazioni? Sì, ci siamo riuniti e abbiamo deciso di rendere pubblico una segnalazione esposto che tutta la minoranza ha mandato alla Procura regionale della Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica e al Comandante Provinciale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. L'oggetto della segnalazione riguarda un possibile danno erariale e possibili responsabilità di carattere penale in capo all'amministrazione comunale in merito alla concessione di uno spazio nel complesso dell'annunziata a Sesti Levante. Ecco, ma perché è stato concesso a chi? Allora, il 7 aprile del 2014 è stato fatto un contratto d'affitto tra il Comune e la Sedapta, SRL, per la concessione di uno spazio a uso ufficio di circa 600 metri quadrati al prezzo di 30.000 euro. Teniamo presente che la Tecnoriva paga un cannone di 22.000 euro annui per uno spazio di 168 metri, quindi già la prima incongruenza nei cannoni d'affitto. La seconda cosa, l'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ci dice che quello spazio ha un valore come locazione che si aggira intorno ai 100.000 euro. Quindi ci potrebbe essere anche la possibilità, se le autorità lo ritengono, di un danno erariale. Però nell'esposto c'è anche qualche condizione rispetto alla società della Sedapta. Sì, la Sedapta si è insediata all'inizio del 2014, ma non dimentichiamo che il 21 febbraio del 2013 si è costituita la Novigo Technology di proprietà della Sedapta, il cui presidente è il marito del sindaco, nonché anche vice sindaco della città metropolitana. Abbiamo ritenuto con tutti i documenti allegati di segnalare queste cose qui alle autorità in modo che verifichino eventuali casi di irregolarità o quant'altro. Passiamo a Santa Margherita Ligure dove si parla sempre di Porto, è l'argomento più importante di questo periodo. Ieri sera a Consiglio Comunale, poi a Genova conferenza dei servizi. Diciamo che ci sono le opposizioni che sono un po' in subbuglio. Anche qui vediamo. In un comunicato congiunto i gruppi consigliari insieme Santa del Cuore e Progetto Santa hanno spiegato la loro contrarietà al progetto di intervento portuale della Santa Benessere e Social. Si tratta di un'opera devastante, scrivono sotto il profilo urbanistico, paesaggistiche non solo. L'amministrazione avrebbe perso ogni ruolo attivo per ricoprire una marginale posizione di garante e controllore che potrebbe portare a contenziosi, fatali e costosi. Il primo cittadino Paolo Donadoni ha presentato la delibera di Consiglio ai membri della conferenza di servizio questa mattina che ora dovranno decidere se approvare, modificare o bocciare la scelta dell'amministrazione sanmargheritese. Donadoni difende il piano della Santa Benessere Social. Dalle nostre analisi ha detto che siamo sicuri che rispetterà l'interesse pubblico. Ieri sera, prima del Consiglio Comunale, si è svolta una protesta in Piazza Mazzini, sui volantini distribuiti, però c'era un errore. L'immagine si riferiva al primo progetto presentato dalla Santa Benessere e Social nel 2011, che presentava elementi che oggi non ci sono più. Anche su questo argomento ovviamente ritorneremo se cercheremo di sentire le varie posizioni. E ora dal mare passiamo alla collina, ai monti, parliamo di funghi. Ci sono migliaia di appassionati, quindi è un argomento che interessa sempre. Ieri il Consiglio regionale ha stabilito alcuni criteri che quindi saranno i sindaci in primis a decidere l'apertura e le chiusure di raccolta dei funghi. Vediamo. Dopo una stagione fallimentare in materia di raccolta funghi, i consorzi e i comuni della fascia colinare e montana si stanno preparando ad una nuova stagione, che secondo gli esperti porterà già i prelibati porcini e ovuli a partire dai primi di giugno. Il Consiglio regionale ieri ha deliberato che l'apertura e la chiusura della raccolta funghi della stagione primaverile a quella autunnale può essere stabilita dai sindaci con appositi provvedimenti pubblicati sull'albo del Comune. È stato confermato che la raccolta è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti. L'esercizio però può essere subordinato al versamento di un corrispettivo monetario da destinare almeno per il 50% di interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo. I consorzi possono prevedere che le persone autorizzate non esercitino la raccolta funghi per due giorni alla settimana. Tra i funghi vietati viene aggiunta anche l'amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso. E ora cambiamo decisamente argomento. Andiamo a Lavagna dove si parla, si torna a parlare del premio Dall'Orso, un premio naturalmente molto importante. Vediamo. Nuova iniziativa dell'Associazione Culturale Lagorà di Lavagna che dà il via alla prima edizione del premio Francesco Dall'Orso. Come nasce questa idea? L'idea nasce proprio dalla volontà di voler unire i giovani ragazzi meritevoli del Tigulio, quindi le eccellenze che si trovano sul nostro territorio, che sono sicuramente tante e poco conosciute, e legarle a un riconoscimento al nostro maestro scultore Francesco Dall'Orso che ha sempre dato molto lusso alla città di Lavagna ed è conosciuto a livello internazionale. A proposito dei tanti giovani, hanno aderito davvero molti? Davvero, una risposta che non ci attendevamo, perché le richieste e le candidature sono state 58 e per questa prima edizione davvero una notevole risposta positiva. Ci auguriamo che sia solo l'inizio di un evento che si ripresenterà nei prossimi anni e sarà sempre più numeroso. La cerimonia di premiazione si terrà sabato pomeriggio? Sabato pomeriggio, presso l'auditorium Campodonico, alle 17, avremo un presentatore d'eccezione che sarà proprio Rino Giannini, che è il giudice di categoria per il teatro, è uno showman ed è sicuramente una persona che sa stare bene sul palco perché lui fa teatro. Come nasce questa associazione culturale? Allora, l'associazione nasce inizialmente da un gruppo Facebook, ha preso vita a fine settembre con noi sei che ci siamo conosciuti, quindi gente che non si conosceva neanche, ma ci siamo ritrovati e creato questa associazione. L'associazione Agora appunto sta nello scopo di... significa piazza, quindi proprio l'idea di raccogliere le idee di tutta la... della gente. Il nostro intento è quello di creare eventi sul territorio e quindi di far risaltare Lavagna in tutte le sue forme, in tutte le sue bellezze anche. E poi ciò non toglie l'aspetto sociale di questa... di questa associazione che abbiamo già collaborato... a partire dalle alluvioni, poi abbiamo già collaborato con altre... tipo... altre realtà. Insomma, questo... Riprendiamo la seconda parte del Tg Tigulio parlando dell'Unione Cechi, organizzazione di mostre e di altre iniziative. Vediamo il servizio. Un'opportunità per superare le barriere che a volte impediscono l'accesso all'arte a molti, compresi i disabili della vista. A Chiavari dal 23 al 29 marzo arriva la mostra dello scultore Felice Tagliaferri, non vedente, che permetterà di conoscere meglio e concretamente toccandole le opere di questo artista figurativo. L'iniziativa è promossa dall'Unione Italiana Cechi e Dipovedenti, Onlus e Sezione di Chiavari, con la collaborazione del Comune. La mostra sarà allestita all'Auditorium San Francesco e dà come titolo, oltre le barriere, vietato non toccare. Si potrà visitare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Tra le opere una statua di circa due tonnellate di marmo con un Cristo deposto dalla croce. Sarà possibile provare il contatto con la Creta per creare sensazioni intense. Previsti poi due concerti, uno di musica leggera e uno di musica classica, all'inizio e alla fine della settimana, con particolari suggestioni audio e ancora tre film. Il 26 ci saranno anche il regista Silvio Soldini e lo sceneggiatore Giorgio Carini, pluripremiati per il loro impegno. Previste altresì esperienze di mostra tattile al buio e una cena al buio, il 27 all'alberghiera di Lavagna. Inoltre, come spiega sempre la presidente Cristina Minerva, anche quest'anno l'associazione propone il concorso di audio narrativa Ascoltami ti racconto una storia, rivolto a tutte le scuole. Si tratta di elaborare un racconto inedito contenente le parole chiaro, scuro, ombra, su CD o MP3 con durata massima di 4 minuti. Per chi volesse partecipare c'è tempo fino al 24 aprile. Le migliori opere saranno premiate il 16 maggio alle ore 10 all'auditorium. Prima abbiamo parlato di funghi con migliaia di appassionati, ora parliamo di pesca, pesca in acqua dolce e parliamo di questa emissione di trotte fario e trotte iridea. In grande quantità sono pensate tonnellate. Vediamo. Con l'imminente apertura della pesca, il personale della città metropolitana, con il supporto delle guardie, dei mezzi della Fipsas e Arci ed i pescatori volontari, riverseranno nelle acque interne genovesi, nel Ponente e nel Levante, circa 4 tonnellate di trotte iridee e fario adulte. Il ripopolamento delle acque interne riguarderà anche le riserve turistiche Fispas, Giacopiane, Aveto e Trebbia, mentre il lago di Malanotte potrebbe ritardare l'apertura di qualche settimana a causa di lavori di escavazione ed asportazione sabbia. Prevista per venerdì prossimo la distribuzione di 350 kg di trotte fario in località Cabanne, mentre martedì 17 saranno riversate 570 kg di trotte iridee nelle acque del Levante. E dalle trotte passiamo al calcio, ci sono proprio una girandola di allenatori in queste serate, vi abbiamo detto quante panchine sono saltate, quanti allenatori nuovi sono arrivati. Vediamo Joël che ci parla dell'ultimo Campanacci, le dimissioni dell'allenatore. Vediamo. Gerri Campanacci si è dimesso dall'Ajac, l'associazione italiana allenatori calcio del Tiguglio. La decisione del tecnico arriva dopo la squalifica di un anno inflittagli dal giudice sportivo del Comitato di Chiavari, dopo la rissa di domenica 1 marzo durante la partita del campionato allievi tra Casazza Ligure, multato di 200 euro, e calcio giovanile Caperana. Gli scontri sono iniziati al 43esimo del secondo tempo, quando, come si legge nella sentenza, Fabio Mutolo, dirigente del calcio giovanile Caperana, fermato fino al 30 settembre 2015, spintonava con violenza un calciatore della squadra avversaria per aver fatto un fallo in un contrasto di gioco al proprio calciatore. È intervenuto quindi anche Campanacci, allenatore della Casazza Ligure, fermato fino al giorno 1 marzo 2016, proferendo, si legge sempre nella sentenza, frasi offensive nei confronti del direttore di gara e partecipando alla rissa con spintoni e pugni. E con questa notizia abbiamo terminato il TGO di Enno, vi ricordiamo che questa sera su Intella TV, intorno alle 20.30, ci sarà una puntata speciale della trasmissione Zoom insieme a Pino Sanguinetti che sarà intervistato da Elisa Folli. Verranno affrontati diversi temi, alcuni naturalmente sono i più importanti che abbiamo trattato in questo periodo, ovvero il depuratore l'ha differenziata passando per i rapporti con gli altri enti. Si parlerà anche di sicurezza e tanto altro ancora. Io ora vi lascio al meteo e vi auguro una buona serata a tutti. TGT Guglio torna domani alle 12.45. Sulla Liguria torna il bel tempo con prevalenza di tempo solleggiato e stabile. Venti da est o nord est fino a moderati, in progressiva attenuazione e rotazione nel pomeriggio dai quadranti meridionali. Mare poco mosso, le temperature previste sulla costa tra 5 e 18 gradi, nell'entroterra tra 2 e 22 gradi.